Quando si raggiunge un tale successo se ne può poi fare a meno? La gloria dà a sue fazione. E quando si è così in alto, che lo sguardo abbraccia tutto, non si rischia di perdere l'orientamento, cedere alle distrazioni e vedere solo tutto rosa. Il successo terreno offre così tanto potere e il potere corrompe. Le grandi altezze non portano forse con sé il rischio di grandi cadute? Grazie. 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 Grazie.